A Giulianova al momento i candidati sindaci nell'area di centro-sinistra sembrerebbero essere ancora tre. Franco Arboretti, Gabriele Filippone e Dino Macera. Dunque dopo giorni di festa servirà ancora un incontro per tentare l'accordo tra il cittadino governante, il Partito Democratico e la sinistra giuliese. Incontro in programma per questa sera dove le tre coalizioni proveranno a cercare un'alleanza con un programma condiviso e una candidatura forte che potrebbe garantire, se non la vittoria, almeno la possibilità di giocarsi dall'eventuale ballottaggio. Come abbiamo fatto in passato e come abbiamo fatto anche in altre realtà della regione Abruzzo, il tentativo di mettere insieme tutte le varie forze che compongono il campo progressista. Ci sono stati degli incontri, delle riunioni, il percorso sta andando avanti ma naturalmente poi la decisione dovrà essere presa dagli organi locali e del partito e anche dei movimenti civici. Questa sera l'incontro è cruciale? Questa sera ci sarà un incontro nell'Unione Comunale in cui il Partito Democratico deciderà quale linea migliore scegliere. Ovviamente io auspico che si possa fare una unione di tutti coloro che pensano di non dover consegnare Giulia Nova o a movimenti populisti o comunque a formazioni civiche ma che sono molto caratterizzate come formazioni di centro-destra che non hanno avuto spazio nella lista ufficiale e che quindi hanno fatto un percorso diverso. Noi abbiamo cercato di aiutare questo percorso di riunificazione e vedremo se questo percorso sarà accettato. Se non sarà accettato il Partito Democratico deciderà diversamente di presentare un proprio candidato, una propria lista. Spero, ripeto, che stasera prevalga la ragionevolezza di mettere su una coalizione vasta che tenga dentro partiti politici e movimenti civici con pari dignità, prescindere poi di chi sia il candidato sindaco.